Roma non è Amsterdam, vero? Dati alla mano, a Roma la temperatura media del mese più freddo, gennaio, si attesta sui 7 gradi centigradi. La temperatura media del mese più freddo ad Amsterdam è di 3,7 gradi centigradi. Le precipitazioni medie annue sono 837 mm a Roma e 850 mm ad Amsterdam. La principale differenza in tema di precipitazioni fra le due città è la modalità. A Roma pioggia intense e rare con durate anche relativamente brevi, le famose bombe d'acqua. Ad Amsterdam piogge deboli ma incessanti. Il dato significativo è il numero di giorni di pioggia. Roma ha una media di 81 giorni di pioggia annua, Amsterdam ben 133. Ad Amsterdam piove il 64% dei giorni in più che a Roma. Oggi potrebbe essere uno di quegli 81 giorni in cui piove un'ora e poi smette per 4, poi ripiove due ore e smette per sempre. Ma pedalare in un giorno come questo a Roma è considerato estremo. Lo capisco dai commenti che raccolgo. Anche oggi in bici con questo tempaccio? Però che sportiva! Ad Amsterdam andare in bici con la pioggia è normale, ma non perché sia un evento più frequente. Perché a Roma ad esempio è normale andare in scooter con la pioggia. La differenza sta nella testa delle persone. Comunque gli olandesi ce lo invidiano il clima romano. Poca pioggia, zero vento, freddo ridicolo. Ciononostante è proprio bello pedalare sotto la pioggia. Se questo video è stato di vostro gradimento lasciate un like qui sotto e se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale così da rimanere sempre aggiornati. Alla prossima!